bene eccoci per roberta iniziamo conto da 15 tavolina e ti connetti a roberta 1 2 3 4 5 alza solo un pochettino l'astina del micofono dimmi se la vedi sì sì la vedo in fondo vedo una donna con delle diversa ma so che lei è in fondo a un burrone con dei con dei sassi con delle rocce che gli cadono addosso come se è caduta in mezzo a un burrone dentro un burrone è morta no 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 sta è una vita passata parallela sta cercando di sta cercando di tornare su però non ci riesce ma si è buttata da un suicidio no ti dà l'autorizzazione questa roberta di una vita parallela passata se chiede aiuto da lì ok in che non siamo 1200 avanti cristo avanti questo dove vedo ansia ma sia però di preciso è un posto come se non esiste cioè come se all'epoca non era ancora denominato definito comunque siamo in ansia all'interno di se mi innalzo vedo delle montagne intorno e lei è come se non è caduta è stata abbandonata lì è stata lanciata da qualche è stata spinta da qualcuno l'attra sopravvissuta vedo un uomo è un'entità l'uomo ha dei rapporti di parentela con lei in questa vita era il suo compagno e perché viene abbandonata spinta lì è rimasta incinta di un altro uomo ok come si concluderà la vita di questa donna del 1200 avanti che muore lì non ce la fa salvarsi perché il la crepa dove è accaduta il burrone è troppo alto se vado avanti nel tempo vedo lei che cerca di di salire però non ce la fa muore di fame di sede è un posto è perduto in mezzo a delle montagne praticamente impossibile essere trovati specialmente poi in quell'epoca va bene sempre che con l'epoca si è esistita con questo qual è il motivo lo chiediamo la parte subliminale di roberta per cui ci mostra questa vita il come dire mi dice la paura in realtà una sua paura il discorso di stare con un uomo e impegnarsi a una paura lei è come se in questa vita è venuta subito a mostrarcela quanto è da dove nasce la sua dove si porta dietro il suo discorso di affezionarsi di darsi di impegnarsi di impegnarsi la vedo come in realtà una paura non come una cosa che non sopporta è come una chiusura questa paura nasce in questa vita per questo ce la sta mostrando si quante vite parallele ha avuto 2153 e ci sono altre vite simili successive a questa oltre all'attuale di roberto sì perché comunque la sua la sua paura tra virgolette di impegnarsi rimanere con un uomo comunque le se la riporta come una cosa da da risolvere da superare la vedo così quindi se ci sono altre vite similari nel senso similari dove lei comunque in qualche modo arriva al punto di rottura per un in questa vita era perché era portava in grembo un figlio di un altro uomo però nelle vite successive non è importante proprio il fatto ma la parte emotiva che gli rimane all'interno della per il suo ricordo diciamo vediamone uno a caso vedo una vita in inghilterra mille ottocento la vedo vestita da da dama e in questa vita si comporta e come dire la vedo dentro una locanda dove beve e dove si comporta fuori dal normale diciamo delle di quell'epoca quindi fa la donna indipendente quindi si ribella in questa vita quindi come se si se si riprende la sua libertà ma chiaramente anche qui se vado un pochino avanti perché sto cercando la stessa situazione qui la ripete nel senso che comunque ci sono diversi uomini che si avvicinano a lei in particolare è sempre donna vedo un uomo che si avvicina a lei ma lei non lei lei si innamora ora di quest'uomo ma proprio perché si innamora scappa via rimane sola in questa vita che si comporta così roberta interferita sì ci sono entità iteriche ci sono 3 dl che entrano e fuoriescono al corpo e vedo delle mantidi direttamente con lei che la interferiscono molto a livello mentale la confondono la rallentano e questo è il compito delle mantidi poi aspetta gli edl che fanno dove stanno allora nel suo caso non li vedo proprio fermi se sto guardando adesso lei il suo corpo emozionale lei e li vedo proprio che entrano e escono di continuo come se non stanno mai fermi entrano escono e stanno un po ovunque testa corpo gambe braccia genitali piedi tutto sì perché questa questo grande movimento quello che vedo è che quando li vedo si agitano di più quindi comunque devo bloccare il tempo per comprendere meglio perché come se avendoli scoperti cercano di con la velocità di nascondersi ma vai a vedere un fotogramma solo senza senza essere rivista della giornata di ieri dove sono in una foto lei è in cucina e sta cucinando sta nella cucina facendo qualcosa in cucina e c'è sua figlia seduta su un tavolo su una sedia un tavolo e le dl sta sulla susso da dietro sopra la sua testa che sta guardando quello che sta facendo e sta prendendo energia in quanto era un momento in cui lei è molto pensierosa sta pensando e nel pensare sta emettendo energia e lui sta lì che la prende ma dove si trovano il corpo sopra ce lo vedo vedo il suo corpo e poi vedo questa forma energetica da dai piedi che la lì copre fino alla testa come se fosse un mantello luogo a volta si va bene ed è le mantini poi ci sono degli umanoidi ci sono degli umanoidi con hanno il viso simile grigi ma non sono dei grigi però hanno il viso comunque si è come un grigio più grande e hanno le dita lunghe con dei con dei delle ventose come hanno la testa come sembra una rama c'è la sembra una rama il viso però più allungata piuttosto che che esatto un pochino più lunga simile al grigio ok saliamo io qui vedo non vedo il tridente quando mi ha detto saliamo ho visto il tridente qui posizione secondo l'universo lo vedo collegato al secondo sia lui e poi mentre guardo questa scena c'è l'aquila odino che che vola sopra poi scende giù e rivola su una sessione sembrano agitati questa volta non lo so sono più agita li vedono più frenetici tutti quanti beh anche quell'altra che appena stata fatta erano molto su chi va la molto allarmati ma quindi sono interferenza del secondo del primo senatore universo c'è anche odino c'è odino c'è c'è odino che sta va verso poi sedone ma non arriva e torna giù e pedodino che si agita quindi vedo questo quest'aquila corvo aquila che perché io li metto tutti in fila quando tu me lo chiedi quindi sopra questi umanoidi anfibi diciamo così c'è codino che sta gira su se stesso sta cercando di non so fare che cosa comunque agitatissimo e tra parentesi in questo momento come se lo vedo questa scena con un ala spezzata un ala come se avesse un ala tagliata come se facesse difficoltà volare lo vedo così e sopra sopra quando me l'hai chiesto ho visto il tridente quindi poi ho fatto luce e lo percepisco come pose d'ore questa immagina roberta una torta succulenta che viene spartita tra le entità dividiamo l'entità del primo e del secondo universo quanta torta si prende quella del primo quindi codino le mantidi e gli edl sono del primo universo quindi sono di odino e quanto il secondo creatore secondo un'ora secondo un'ora secondo creatore 15 per cento tutto il resto a zeus e odino ok il posidone utilizza qualcuno per lavorare poi interisce direttamente vedo sempre dei portali vedo sempre un quando cerco di andare a studiare come fa come fa è come se vedessi un tunnel fatto di energia fatto a portale in questo caso io la vedo su sulla sulla testa di di roberta come se ci fosse un collegamento collegamento fatto di un tunnel di energia ok vediamo gli impianti terrifici sicuramente ci saranno dividiamoli solo prima di tutto più o meno cosa servono e di chi sono si è dell'uno dell'altro a impianti sono stati messi vedo questo tutti dalle mantidi a livello che più fisico in diverse abduction subito ho visto un qualcosa una palla pallino di ferro all'interno del cuore per bloccare la le emozioni poi vedo delle biglie fatti le vedo così ovviamente sono degli impianti fatti a via nell'ovaio destro per bloccare la sua come se fosse per bloccare la sua pro creazione vedo questo come se bloccano la sua energia vitale in quanto mi arriva che comunque una donna la l'energia diciamo del procreare è molto potente quindi è come se bloccando questa energia in una donna bloccano abbassano un pochino la vibrazione come dire come se fosse meno potente a con energia se bloccano in una donna questa di zona sempre primo creatore sempre sempre primo creatore si gli impianti li vedo legati al primo comunque a loro al primo a zeus l'altro usa portali sì sì perché quello che vede come se non può però cioè non non poco no e ne può prendere la persona e portarla di là perché non a livello energetico non non è in la sua nassa se è in dissonanza è come se fosse un altro tipo di energia che noi non non supportiamo cioè che l'anima nostra non supporta quindi usano comunque dei portali e poi anche per piante allora sono andata dietro perché va faccio prima davanti e poi vedo dietro e ho visto qui nella all'inizio della sotto la cervicale all'inizio della colonna vertebrale una pallina con un collegamento con una pallina qua quindi è come se fosse un uncinetto collegato da dietro la nuca alla 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 fronte mentale ed adesso ho capito quello che ho visto prima è dove le dl utilizza l'ho visto prima in quel momento adesso ho capito perché utilizza questo impianto anche per per attaccarsi e prendere l'energia mentale c'è energia che viene spigionata a livello di pensiero ecco la moneta che resta attaccata alla fronte perché c'è quella pallina lì l'impianto è un impianto questo impianto qui oberta ci ha fatto vedere che ha una moneta si mette una moneta qui nella fronte non cade in ogni parte della fonte altra parte della fronte del viso cade un impianto lei è molto presa a livello pensiero più che mente proprio di pensiero come se lei pensa tanto cioè io vedo questa scena che ho visto anche prima in cui la scena delle dl come se lei quando si ferma è molto pensa pensa rimurgi in come dice si dice insomma ripensa ripensa spesso alle stesse cose e questo è un uno dei delle cose al quale loro diciamo usufruiscono della sua energia perché nel mente lei pensa ripensa si crea comunque energia che fuoriesce in quel momento perché non si rilassa ma continua 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 quindi è un movimento tutta la sua energia mentale anche questo è quello che vedo ok gli impianti sono tutti questi se causa esoterica dei fibromi uterini e gli impianti e le dalle abduction abduction quante sono variano li vedo sui come se loro utilizzano comunque molto la sua parte di riproduzione insomma l'organo di riproduzione perché lei lo amo molto energetico e quindi non possono troppo andare a farlo in quanto altrimenti si si rovinerebbe troppo questo è quello che vedo sono alcune volte due al mese alcune volte quattro alcune volte nulla dipende bloccano la sua energia vitale a livello di energia femminile di riproduzione questo è quello che vedo da prima mal di schiena è l'impianto e poi è come se lei a livello mentale mi è arrivata molto chiara questa cosa si sentisse di portare dei pesi su quindi è un discorso anche mentale che lei si crea che sfoga sulla schiena perché la schiena il mal di schiena e anche a livello mentale un discorso di portare dei pesi sulle spalle quindi come se si sentisse responsabile si responsabile di tante cose che non riesce a volte le vede più grandi di lei a supportare uno zaino che le pesa sulle spalle causa del teore che dei tanti nei avuti quindi i basiliomi i piccoli tumori della pelle asportati le cicatrizzazioni sempre sono dominate da difficoltà cicatrizzarsi sono che erano problemi ora quello che vedo mentre me lo dicevi sono come se a livello di abduction e vedo diverse cose vedo come se le mantidi le fanno dei taglietti dei taglietti sulla pelle come per fare un per vedere che cosa succede a livello eterico se viene tra virgolette ferita questa è la prima cosa che ho visto etericamente etericamente come sedia detto proprio che la tagliano ma questo sono i miei asportati sono le cicatrici in questi sono le cicatrici e in aia sport vedo anche che a seconda di queste delle volte che succede questa cosa è come se fanno il taglio e mettono delle vedo proprio un contagocce delle del del liquido poi ne fanno un altro da un'altra parte e mettono del liquido poi ne fanno un altro come se avete presente quando si fa le prove allergiche che fanno il taglietto e mettono la gocciolina ecco per vedere che cosa succede per rendere l'idea questo è quello che vedo a livello eterico e cosa 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 quali sono i risultati di questo esperimento che noi non siamo compatibili con le loro sostanze cercano di di vedere di quello che vedo più in alto e come lei è una delle tante persone che viene utilizzata a livello fisico anche per cercare di creare un corpo che sia compatibile già che sia un perfetto miscuglio tra noi e loro ma non ci riescono sempre per creare un dna umano insieme a loro che richiami l'anima quindi le provano tutte esistono appare una vita precedente con la figlia mi mostra una vita dove la figlia era nel contrario però alla madre se no il padre cioè la figlia era maschio ed era un padre e lei verta era la figlia era capovolta la situazione cosa succede il padre muore c'è la figlia quindi padre in questa vita muore prima del tempo vedo lei roberta in questa vita da una bambina bambina barra ragazza avrà un nemmeno 15 anni e rimane da sola perché la mamma è morta di una malattia tubercolosi il padre padre si il padre è come se lei aveva un rapporto molto bello molto è un parico con il sì e quindi è come se io vedo su nel momento in cui il padre sta per morire questa ragazza che è roberta e il padre gli dice come se gli sussurra ci sarà un momento in cui non ti abbandonerò qualcosa del genere come se c'è un impatto e lei rimane sola e soffre molto viene abbandonata questa vita cioè abbandonata è orfana però il fatto di perdere il padre rimanere comunque sola senza la sua figura maschile che è stata un punto di riferimento in questa vita le porta un ricordo anche a livello energetico ed erico e perché in questa vita la figlia non è non è stata desiderata tuttavia la gravidanza nonostante la pillola del giorno dopo è andata diciamo buon fine perché è come se loro si sono promessi che in realtà a un certo punto come se la figlia si prenderà cura della mamma come hanno fatto tecnicamente a bypassare il messaggio chimico della pillola ed annullarlo l'anima buttuto ok vite precedenti con il padre di questa bambina è la persona che la spinta all'interno del burrone della vita in asia ok che succede cani abbaia ok c'è un rapporto di vite precedenti tra la figlia indiana che ho sentito la mia voce ricco c'è una entità non riesco a lo stavo guardando la prima chiassimo alla città mara io vedo nel db pure qua vedo è un'entità la vedevo l'ora l'ho vista nella scena della spinta del di lei dell'uomo che spinge lei in quella vita e poi adesso l'essere del buio è l'essere di luce del secondo universo qui c'è posidone con il secondo universo quindi andiamo dritti e piatti prendiamo questo essere del buio che è il preferito con noi il totale definitivo e i problemi non ci sono più e addio dimmi no perché erava fastidio i miei cani ok ok problema risolto c'è una causa sotica del fatto che la figlia che non ha conosciuto suo padre in questa vita può avere una correlazione con vite precedenti scusa stavo vedendo mi puoi ripetere no lo sto l'ho mandato via solo che mi sono un attimo concentrata e quindi scusami non ho solo un un istante perché non stiamo parlando di roberta sua figlia non ho mai conosciuto il padre c'è una vita precedente che spiega questo fatto è un qualcosa tra però dove roberta vedo che non entra in questo caso cioè è una vita che vedo tra il padre attuale la figlia attuale però non c'entra roberta perfetto causa esoterica del gestire male il tempo fare le cose all'ultimo momento dedicarsi poco tempo come scappare da se stessa quello che vedo è come se lei non vuole affrontare le situazioni un meglio le vorrebbe affrontare però come se fare la cosa all'ultimo e come è come se tende a non prendersi la responsabilità di quindi in realtà è un poi si trasforma in un discorso mentale nel senso lo faccio all'ultimo così fino all'ultimo non me ne interessa quindi è legato al discorso della responsabilità al discorso del peso al discorso del che si ripercuote anche su le sue relazioni sentimentali è tutto collegato a questo discorso cui fa parte di questa situazione mentale e eterica che si ripercuote nel mentale causa dell'ansia vedo più cose la prima che ho visto a livello eterico quello che gli viene iniettato con questi tagli nelle abduction per vedere le sue reazioni e a volte io vedo anche una tachicardia cioè come una reazione corporea e poi l'ansia vedo anche a livello un pochino più fisico cioè energetico è come se lei rimanda il organizzare fare le cose all'ultimo e all'ultimo comunque è una reazione come se comunque le brand dell'ansia perché si rende conto che alcune cose non possono essere gestite all'ultimo momento quindi è come un mi devo sbrigare altrimenti non riesco a fare in tempo quindi è queste due cose causa della disorganizzazione la stessa cosa causa dei programmi di rifiuto di programmi di avere dei programmi a breve lungo termine mancante sempre legato a questo discorso una vabbè chiaro chiaro parliamo del suo emozionale paura dei confronti edilizio scappare non riconoscere le emozioni difficoltà nel verbalizzarla lei ha autobloccata da tutto quello che abbiamo detto che deriva un particolarmente dalla vita che lei ci ha mostrato all'inizio perché quella che meglio spiega il discorso del rifiuto della virgolette quindi quello che vedo è una in realtà ridotto in una parola e paura paura di già lavorare le situazioni si dove metto colore blu scurissimo scuro una fifa blu si di tutte le emozioni a bassa frequenza quale percentuale corrisponde alla paura 60 per cento perché è anche di più perché ha paura di più cose c'è paura di prendersi delle responsabilità e paura di innamorarsi e paura di trovare dei sentimenti forti e non riuscire a gestirli e paura di essere abbandonata nel momento in cui prova dei sentimenti forti e quindi di di non riuscire contiene più cose la paura e le altre emozioni negative 30 da quel che ho capito sicurezza ma deriva tutto da vedo molto chiara la paura come se vedessi una sfera blu scuro con tutti raggi ogni raggio corrisponde paura di innamorarsi paura me lo mostra così paura di di rimanere fregata tra virgolette da un uomo paura quindi è proprio forte si diranno poi solitudine sì perché comunque se lei vorrebbe però è il suo nella sua coperta di linux della sua zona di comfort lei ama la solitudine in questo caso è una di difesa ama la solitudine nel senso che io vedo che comunque lei è una persona che ha imparato a stare bene da soli e comunque per carità non è una cosa negativa se fatta in maniera costruttiva però cioè lei si sente c'è solitudine sta bene perché è una sua difesa nel suo caso cioè voglio dire comunque la solitudine stare bene con se stessi magari wow però nel suo caso è una difesa dirò che sto bene da sola non mi apro così sto qui così non mi può succedere niente questo è il senso e quindi si auto creata una come dire una lettura mentale che la giustifica ecco questo perfetto quindi relazioni tossiche paure di amare essere ferita ma ne l'abbiamo detto e adesso vediamo per ultima in ultima cosa la causa esoterica del fatto che viene c'è qualcosa che la trattiene dal vivere ma dalla natura in campagna sono quello che ho visto subito mentre me lo dicevi a tutte le entità nel senso che si avvicina alla natura appunto il mio cane che si avvicina alla natura è come se si avvicina alla sorgente no cioè la si connette di più quindi si apre e se lei riuscisse a stare di più in mezzo alla natura quindi a crearsi una sua vita sarebbe più connessa sarebbe più avrebbe vedo una vibrazione molto più alta perché la città è comunque tossica e quindi è questo è tutta questa situazione ok ha realizzato ha realizzato ha fatto un sogno che ha dopo essersi svegliata ha praticamente ripetuto nella stessa notte sente un vuoto d'aria e un palazzo in cui lei è dentro che cade il clode esce da un portale dove una da una dacson vedo che c'è un portale che si apre tra il suo letto e è una dacson quindi è come se aprono uno spazio tempo e la la lanciano tra virgolette ma è il vuoto d'aria che lei sente la sensazione di finire giù con un palazzo è la fine quindi la restituiscono al letto se l'inizio alla riscarica 1 e per la riscata ma si usate il termine però a volte buttano ti buttano proprio tu e perché lo rivive ce n'è un'altra se tempo no è lo spazio tempo che noi vedo una sovrapposizione di tempo della stessa cosa si è spalmata due volte esatto questo ma lì che è successo un casino qualcuno ha fatto degli errori una tecnologia vecchia o che non funziona bene chi è responsabile mantide ok chiamiamola mantide responsabile di questo problema come si chiama clarin è una delle quante mantidi che interferiscono con roberta 7 ok la vedi attenta a ordini militari reattiva sotto di loro ci sono dei rettili bene adesso io le parlo questo errore ma appunto è una soldatessa lei di fatto è che non sia sia non sia una soldatessa l'està degli ordini e ha fallito ha sbagliato quindi adesso come lo possiamo fare in quanto interferisce con roberta e quindi noi abbiamo il permesso di roberta di fare quello che ci pare adesso questa mantide si apre un portale definitivo e ci sono fine da sola detto come prezzo da pagare per l'errore non lo fa si agita si agita con le zampe le zampe le zampe invece di muoverle di un caso adesso per aprirsi un portale definitivo voglio apriamo voi se lo apre per sola portale l'ha aperto ma non ci vuole entrare e mi sta dando fastidio alla testa allora alza le tue frequenze isola la e mostra le il punto in cui deve andare portale definitivo io ho messo una una bloccata con una come detto isola sì che altrimenti in a fastidio allora se auto eliminato siamo se si adesso si è ad esempio a tutte le entità che sbagliano e fanno venire dei brutti sogni a noi e adesso ci divertiamo prima vediamo 22 dati vediamo a quanto vibra roberto 6 miliardi e mezzo quanto sta la consapevolezza della ps rispetto a quella della p 120 per cento la ps la piena a come consapevolezza della ps ok ma psp e si dividono la sorta in che modo 47 ps quasi quasi un equilibrio va bene apriamo una finestra guardiamo la mente collettiva roberta come tutti è collegata alla mente collettiva al mentale che tutti condividiamo nella mente collettiva saborema vedi delle entità mentali quello che vedo è questo la mente collettiva la visualizzo come terra sopra la terra un grosso disco disco dischetto hard disk ok la vedo così con tutti microchip sì però come un pezzo di computer fatto proprio con tutti i filetti rompato esatto ok grande sopra la terra nel mentre mi chiedevi se vedi dell'entità è come se vedessi delle delle come del fumo fatto scuro che si muove all'interno della di questa parte artificiale mente collettiva se fosse artificiale la visualizza così questo fumo sono delle entità sì però sono molto artificiali sono delle enti sono energetiche ma create in maniera proprio artificiale energia artificiale ok chiama di queste energie artificiali chiamiamo le entità quello proposto alla schizofrenia mi si è presentato davanti un visualizzo così un uomo cioè con la forma da uomo mi si presentano così con gli occhi incrociati come se fosse strabico e la lingua di fuori ok chiama l'entità mentali a cui roberta è connessa o la entità che ci sono ovviamente allora vedo sto visualizzando questo lo vedevo per roberta poi ho voluto vedere se c'era anche per altre persone come se mi fosse innalzata e come se vedo alcune persone e anche roberta collegata con un filo a una parte di questa di questo grosso hard disk diciamo così ok ma l'hard disk è inevitabile ma anche un'entità a uno di questi film e sopra si è come se vedo più persone che hanno questo collegamento con questi fili e sopra ci sono comunque dei fumi io li percepisco così li vedo così artificiali addetti al controllo di quel tipo di azione mentale quindi di quel tipo di malattia o di quel tipo di di paranoia o sì come se fosse ci fossero degli addetti a ripeto così che cosa fanno questi a cui è collegata roberta di cosa si occupano a livello a livello mentale nel suo caso io vedo che come se ci fosse questo collegamento e questo filo e vedo come dei fulmini mini fulmini che le arrivano dal collegamento di questo fumo che si occupa di lei e di altri ovviamente perché come se ogni tipologia mentale avesse un fumo ok molto bene anche una forma del fulmini piccolo fulmine diversa nel suo caso in tale sì nel suo caso io vedo proprio un fulmine come lo visualizziamo noi come quando è giallo nel suo caso in altri vedo una linea rossa fatta di energia più un tipo scossa ok a cosa è proposta questa entità con questi fulmini cui è collegata roberta nel corpo mentale nel suo caso vedo arrivarla spingerla la depressione solitudine per arrivare alla depressione c'è all'interno è quello in questo fumo il fumo come si chiama per roberta il fumo preposto alla depressione come si chiama per volta flash dice ma il fumo preposto alla depressione di chiunque altro si chiama flash no assume un nome fittizio è un energia artificiale completamente quindi non è nemmeno è un entità ma è l'entità la vedo che ne so rispetto un amanti della vedo più tra virgolette non reale però più fisica più che si può toccare come dire questa la vedo proprio una cosa ok aprono finestra guarda cosa fa udino in questo momento ecco ora quello che vedo è questo è come se già prima sempre il solito discorso che vedo nella durante le sessioni tutto accade in simultanea quindi è come se prima si stava agitando e è successo qualcosa la sua alla sinistra già da prima e nel mentre tu me l'hai chiesto è perché difficile da spiegare ho visto lui che vedeva questa scena e quindi ecco la sua agitazione ok è contento chiedigliere da parte mia che sono arrivato a questo punto mica arrabbiato nero cazzato nero si può dire va bene allora gli mostro il dito medio come vedi roberta di fronte a questa situazione dice tanto non ce la fai per l'abbiamo fatto sì ma tanto non ci arrivi c'è di più come reagisce roberta roberta questo momento sta prendendo consapevolezza la non non credeva fosse tutto così c'è ha visto di più di quello che pensava di vedere questo è quello che mi dice cosa trattiene roberta dalla vita sana in campagna la vita in campagna per roberta farebbe uscire la vera roberta la roberta che è empatica la roberta che 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 si lascia vivere si lascia conoscere questo la trattiene ok quindi se vogliamo l'interferenza e teori che mentali mentali e teori che le interferenze da rica ma l'interferenza anche mentale si ok interferenza mentale nel caso di roberta è solo flash preferenza med l e ok c'è una connessione tra l'interferenza mentale e le dl è una collaborazione mentre me lo chiedevi vedo questa cosa nuovo è come se le dl nel momento in cui flash questa arriva questo fulmine le dl lo lo sente e fosse più facile per lui sussurrargli le cose all'interno dell'orecchio quindi è come se lavoriamo sono gli ordini che arrivasse una sorta si è come se fosse più è come se la in quel momento che arriva che arriva questo fulmine diciamo io lo visualizzo così in questo caso come se si bloccasse un attimo il tempo come se fosse fermo lo botonizzata quel momento questo vedo anche per gli altri a questo caso vedo flash però lo percepisco anche per gli altri e quindi quel momento e quindi in quel momento le dl e l'interferenza di turno in questo caso le dl avesse un'apertura maggiore per entrare per agire sulla parte emotiva quindi mentale bene questa un po di fa è stata fatta da me una sessione che ha come titolo entità mentali la prima volta che viene trattato l'argomento da questo punto di vista sabrina non ne sapeva nulla non ha visto la sessione stai dicendo le stesse cose che ha visto elena la forma con cui si presentano queste entità mentali piccoli fulmini la connessione con gli edl il fatto che odino è un po preoccupato per usare un eufemismo già in coperta plastica aspetta che l'aquila che scotch andiamo al cluster così non l'acqua la mettiamo subito nel cestino mi porta in un in un giardino mi prende per mano lei mi porta in un giardino e c'è una grotta e sono nascosti la me lo mostra così il cluster una grotta dentro la natura entro un giardino e all'interno di questa grotta buia ci sono tutti i suoi libri me li fa vedere così cosa vuoi farle le buttare tutto via basta compresa la grotta vedo lei con la fisionomia di oggi adesso che prima vedevo la donna buona se adesso è lei prende una grotta bassa prende questa grotta con le mani energetiche la prende apre un portale un buco definitivo e le butta tutti via fatto sì a volta sdraiato a terra il fantozzo faccio il suo faccio in giù faccia in su di vota in noi disattiva si nasconde se farò fin da che c'è pensa che tutti noi lo vediamo ok roberto che fa lo prende lo lancia subito lo lancia dentro un buco o poi chiude il computer spina sedia scrivania impianti mantidi abduction sostanze chimiche che sono state messe nel suo corpo l'umanoide con la faccia da rana prende anche il fumo flash ddl mantanti dati via odino poveridone tutti gli pianti come se si rende conto che lei mi mostra così fa così con la mano e lancia tuttavia modino poveridone tutto quindi vuole come dire rendersi proprio conto anche di ogni singolo il piante di preferenza e dire che già se ne è resa conto nel mentre c'era la sessione quello che ha sentito come se lei è già successo quindi è come se lo riviva ma l'ha già vissuto se ne è già resa conto flash era responsabile dei pensieri ridondanti della sensazione di dover portare dei pesi della paura di amare essere amata della solitudine solitudine quello che ho visto prima è che l'obiettivo era portarla la depressione attraverso tramite la solitudine la e la sua giustificazione di stare bene da sola era arrivare arrivare a non riuscire a avere più a non comunicare più quindi a non esprimersi più questo è quello che ho visto nuova frequenza 12 miliardi nuovo rapporto psp ma non nella mano dal nuova consapevolezza 220 per cento messaggio di psp e congiunte a robert che lo ascolta ora dicono che non devi avere paura non ti devi procura preoccupare di quello che può succedere perché tutto relativo l'unica cosa che può succedere è che non devi lascia di andare lascia si esprimere per fare tante cose la vita è più bella lascia si esprimere connettiti con noi e non importarti di ciò che pensano gli altri tu si te stessa non ti ingabbiare preoccupati di te non aver paura nessuno ti può fare del male nessuno può bloccare la bellezza che batte dentro il tuo cuore ci rimetti tu noi altri se non lo fai esprimi ciò che tu esprimi so che tu puoi senza preoccuparti ok come sempre roberto può condividere le informazioni di questa sessione con chi vuole si vuole si vuole può condividerle con la figlia con l'ex con chi vuole ha fatto dei biscotti i grandi dal forno e li lancia con le informazioni che lei ha preso li offre la sua bimba subito la bimba li mangia e qualcun altro che si mangia biscotti ok torna sotto guarda se c'è una causa alla caduta della audino che ha visto che troppe anni che stavano prendendo i biscotti ok c'era qua e che è come se c'erano tante anime che guardavano quello che accade quindi prendono l'ora ok informiamo centinaia di miliardi di biscottini e facciamoli credere su tutta la terra in quantità esagerata miliardi di miliardi di miliardi di biscottini e se nel biscottini ho visto anche le informazioni che abbiamo messo l'altra volta con con la nostra energia che un pezzo di terra e vedo altri biscottini che cadono e altri anime che prendono sempre le informazioni bene perfetto avevamo già finito prima abbiamo finito ancora meglio adesso della terra la vedi meglio io sì le prossime puntate lavoreremo di più e maggiormente sulla lente collettiva in questo caso il lavoro per roberta è stato fatto quindi la salutiamo come la vedi ultima immagine sempre donna nel burrone eccetera no 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 è lei lei che fa il biscottini la donna del burone esiste ancora ok allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo quando sei pronta dimmelo